Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Dopo dieci anni Federico Melchiorri torna a casa. L'attaccante di Treia ha trovato l'accordo con l'Ancona, via dal Perugia per firmare con il bianco-rosso dorico fino al prossimo giugno. Alla fine il direttore sportivo Francesco Micciola è tornato a battere la pista che negli ultimi giorni si era raffreddata. Sfumato il vissino Kevin Cannavò, finito in prestito al Padova nel Girone A, incassato il no di Davide Merola dell'Empoli ora al Cosenza che vuole restare in Serie B, Micciola ha stretto per Melchiorri. Un colpo da 90 per la categoria che ribadisce le ambizioni crescenti della squadra di Colavitto, tre vittorie su tre nel nuovo anno senza subire gol, con un salto dal nono al quarto posto in classifica. Per continuare la scalata dopo Agostino Camigliano per la difesa e Gianmarco Basso a centrocampo è con l'affare Melchiorri. L'ultima esperienza in regione per il 36enne attaccante marchigiano nel campionato di Serie D 2012-2013 alla Maceratese. Giocatore che non ha bisogno di grandi presentazioni, carriera scintillante al netto di qualche infortunio, buoni comunque a frenarlo. Il bilancio è super. 11 presenze e tre gol in Serie A, 220 partite, 54 reti in B, 97 gettoni più 14 centri in C. Potrebbe non essere finita perché dall'Umbria raccontano come l'ipotesi che insieme a Melchiorri arrivi nel capoluogo pure l'ex Edoardo Iannoni si è fatta nelle ultime ore più concreta. Il centrocampista di proprietà di Salernitana è un pallino di Colavitto. Insomma, l'Ancona lavora una grande chiusura di mercato e avrà tempo fino alle 20 di martedì. Ma prima, sabato pomeriggio, il derby contro la Vispesarol del Conero. Sempre indisponibili Spagnoli, Deramo e Ruani. Peringss